Siamo a Colonnella, in un paese del Terramano affacciato sul mare, nel suggestivo scenario della scalinata, per rivivere insieme la tradizione della natività che quest'anno volge, pensate, alla sua 39esima edizione. Nonostante gli eventi sismici che hanno colpito il territorio, l'amministrazione comunale è riuscita a far rivivere questa importante tradizione che vede coinvolti almeno 60 figuranti e rappresentate ben 20 scene. Quali difficoltà ha incontrato l'amministrazione quest'anno per mantenere in vita questa tradizione così importante? Il nostro è innanzitutto un comune che è stato danneggiato dagli eventi sismici e quindi abbiamo tutto il centro storico un po' in parte praticamente in disuso, purtroppo abbiamo diverse criticità, però ci siamo voluti misurare in un coso diverso. Quest'anno siamo stati qui lungo la scalinata una sera, abbiamo visto che potevamo mantenere questa tradizione, molti ragazzi hanno partecipato, questo ci fa piacere, sono le nuove generazioni e vediamo che questa sera tutto è pronto. Anche perché qui abbiamo uno scenario splendido che sicuramente aiuta la realizzazione di questa tradizione, siamo sulla scalinata, come diceva il sindaco, una scalinata importante, ricordando l'invito di Papa Francesco che ha invitato tutti i fedeli a fermarsi davanti al presepe e osservare il presepe perché proprio questo sia un messaggio di speranza. Non trova sindaco? Ma sicuramente importantissimo, oggi dobbiamo dare questi segni alla nuova società. Ecco, anche la presenza qui dell'assessore dimostra come questa tradizione coinvolga tutti i concittadini di Colonnella e sia anche un momento di convivialità. Sì, questo sicuramente, quindi quando ci sono queste manifestazioni poi ecco il presepe vivente a maggior ragione partecipa a tutta la cittadinanza, quindi partecipa con le presenze ma partecipa anche nel lavoro, nella disponibilità di dare ai locali, di dare tutto quello che serve per far riuscire bene la manifestazione. Quindi su questo un complimento a tutti i colonnellesi. Grazie a tutti!